Buonasera uomini. Cosa succede se viviamo una relazione con una donna che ha una bassa autostima? Allora, noi possiamo credere che una donna che ha una bassa autostima è una donna più vulnerabile, in un certo senso più manipolabile. Poiché noi uomini, a differenza delle donne, possiamo anche essere attratti dalle caratteristiche di vulnerabilità. Possiamo ritenere una donna che in un certo senso appare più fragile, più tranquilla, come una donna che ci dà maggiori garanzie. Ma in realtà non è sempre così. Per questo dobbiamo anche indagare un'ipotesi diversa. E ovviamente è solo un'ipotesi tra le tante, ma vale la pena inserirla in un insieme di ipotesi che possono tornare utili dal momento in cui cerchiamo di capire in che situazione noi ci troviamo. Ora, può esserti capitato, se stai vedendo questo video, se sei arrivato attraverso le tue ricerche oppure in passato, che una donna a un certo punto iniziasse a essere meno presente, a darti meno importanza, meno valore, a distaccarsi, a disinnamorarsi, anche se apparentemente non ci fosse alcun motivo per farlo. Insomma, apparentemente sembrava che tutto andasse di verso giusto. Però, non si sa come, c'è stato una sorta di allontanamento. Perché sostanzialmente avviene questo? Avviene proprio perché da parte tua c'è tutta una serie di attenzioni che le stai dando. affetto, attenzioni, impegno, considerazione. Tutte belle cose apparentemente, intendiamoci. Tutte cose che in una relazione sana, in una relazione dove c'è rispetto reciproco, dove c'è collaborazione, dove tutto è su un piano paritario, va benissimo. Ma quando una ragazza ha bassa autostima, può presentarsi una situazione particolare. Puoi interpretare a livello profondo questa tua considerazione, questo valore che le stai attribuendo come qualcosa di negativo. Perché? Perché se tu le stai dando importanza e lei stessa non si attribuisce un certo valore, non ha autoconsiderazione, un livello di autoconsiderazione tale da ritenersi meritevole di essere in un certo senso presa in considerazione in quel modo come stai facendo tu, tende quindi a svalutare colui che le dà tutto ciò. Quindi se tu l'apprezzi, lei tenderà a non farlo con te, proprio perché lei non apprezza se stessa. Può sembrare contorta la cosa, però è una dinamica che spesso succede. E' una sorta di riflesso difensivo, no? Per cui lei, per preservare un certo livello di coerenza interna, per cercare di non andare in dissonanza cognitiva, tende quindi a, anche se tutto va bene, a dare a te meno considerazione, a distaccarsi emotivamente. Proprio perché sei tu che stai investendo nella relazione. Cioè ci siamo capiti? E' un po' particolare come ragionamento. Può sembrare cervellotico, ma lo è in un certo senso, perché non è qualcosa di così immediato. E può sorprenderci, in effetti. Perché può sorprenderci? Proprio perché se si presenta una situazione inversa, può succedere proprio il contrario. Ovvero, se una donna con bassa autostima si trova con un uomo che invece se ne approfitta di questa componente, può in realtà prendere il controllo della relazione. Infatti, perché una donna con bassa autostima può essere la preda perfetta di un manipolatore, di un narcisista patologico, insomma, una manipolatore. Proprio perché, in quel caso, il fatto che ci sia un uomo che la svaluta, che tende magari a trattarla in un certo modo, che utilizza il rinforzo intermittente, per cui ogni tanto la ricompensa con un po' d'affetto, ma poi non lo fa per la gran parte del tempo, insomma, si crea questo tipo di situazione. Ecco che una ragazza con bassa autostima cosa fa, sostanzialmente? In quel caso, il fatto che l'uomo non le dia una certa considerazione è un po' una conferma del fatto che, ecco, effettivamente, quest'uomo si comporta così con me perché io sento di non valere niente, lui effettivamente sente, pensa che io non valgo niente, è nel giusto, lui ha un certo valore, io devo fare di tutto per cercare di convincerlo che anche io merito una certa considerazione. Ora, questa è una sorta di traduzione di quello che è il suo inconscio, non è che lei effettivamente pensa a queste cose in modo lineare, ma il suo inconscio fa questo tipo di lavoro. Quindi, in quel caso, cercherà di dimostrare di meritare affetto e quindi magari può anche accettare l'impossibile. Si possono creare anche situazioni in cui questo tipo di ragazza con bassa autostima può accettare anche il fatto di essere stata tradita e se ha a che fare con un manipolatore che invece si diverte a vedere qual è la soglia di sopportazione di una ragazza di questo tipo, può anche tradirla e farlo in modo estremamente palese, proprio per vedere fino a dove può arrivare, perché spesso il manipolatore cosa fa? Un manipolatore cerca di testare la soglia di sopportazione. E quindi, ecco, è particolare, no? Come nel momento in cui magari la stessa ragazza, ok, la stessa ragazza si trova ad avere a che fare con un uomo che le dà tutto, tende a distaccarsi proprio perché quest'uomo, allora poiché le dà una certa importanza, quindi non deve valere chissà cosa, invece l'uomo che non le dà la giusta considerazione viene visto come un uomo che merita maggiore considerazione, perché in quel caso lei cerca di avere conferma del proprio valore, del proprio ego. Insomma, intendiamoci, quello che io ho fatto qui è una sintesi e sicuramente è un argomento che può essere ampliato in modo estremamente vasto, insomma, è molto vasto. Però ecco, è per capire un po' come funziona questa dinamica, quindi prendiamo in considerazione questo aspetto che spesso non se ne parla, spesso è qualcosa che non trovate facilmente in giro perché, non so sostanzialmente perché non se ne parla così tanto, però forse perché c'è spesso l'idea che, insomma, una donna che può in un certo senso apparire come fragile, come bisognosa, non possa fare del male, ok, però in realtà anche una donna che apparentemente va a sembrare un piccolo angioletto, in realtà, poiché è vittima lei stessa di certe dinamiche, può effettivamente darci dei problemi. Perché è un po' come un esempio che io ho già utilizzato, ma che, ecco, ripeterò perché è calzante, è quel tipo di donna che nel momento in cui è martello e tu sei l'incudine, lei allora picchia forte. Se invece è il contrario, se vede di avere a che fare con un uomo che è il martello, allora lei l'incudine. Quindi ecco che non si trova mai a vivere un rapporto sereno, paritario, tranquillo. E quindi con una donna di questo tipo può essere difficile avere un rapporto sano e tranquillo, sostanzialmente. È uno di quei rapporti che o diventi tu la parte dominante o sei la parte dominata. è uno di quei rapporti dove è un po' un gioco di potere molto sbilanciato, dove non c'è mai una sorta di assestamento. Uomini, io spero che con questo breve video vi ho fatto riflettere su alcuni aspetti interessanti riguardante questa dinamica. Per supportare il canale vi invito a iscrivervi e a attivare la campanella per nuovi contenuti. Vi ricordo che esiste un'area sul sito dedicata al counseling, nel caso in cui mi vogliate contattare per parlare di una situazione che vi riguarda personalmente. C'è poi la community di Essere Uomo, dove potete richiedere l'iscrizione, mi contattate o contattate il moderatore. Potete quindi confrontarvi con altri uomini, condividere le vostre esperienze. Questo è totalmente gratuito e poi ci sono i vari social di Essere Uomo, dove vi potete seguire e supportare il progetto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao uomini!